ciao benvenuta o benvenuto in questa nuova meditazione sediti con la schiena dritta oppure se preferisci distenditi su una parte morbida la più confortevole della casa rilassa il viso e le spalle fai un respiro lungo e profondo e riempi dare la pancia al petto mentre espiri emetti un leggero suono estendendo l'espirazione il più a lungo possibile senza sforzarla alla fine dell'espirazione usa gli addominali per spingere fuori l'ultimo respiro fai una pausa per due conteggi quindi ispira di nuovo ripeti questo schema di respirazione stabilendo un conteggio lento fino a 4 per l'ispirazione una pausa per due conteggi un conteggio lento fino a 4 per l'espirazione usando il suono e una pausa per due conteggi alla fine dell'espirazione continua a respirare in questo modo interiorizzando il ritmo finché non dovrai più contare ora immagina una piccola piuma bianca sul pavimento di fronte a te mentre espiri immagina che la piuma si sollievi di qualche centimetro dal pavimento si libra mentre fai una pausa e scende mentre respiri all'inizio potrebbe essere difficile restare fedeli alla visualizzazione ma non essere duca con te stessa con il tempo la pratica sarà in grado di trattenere l'immagine nella tua mente per periodi anche più lunghi e grazie per questa meditazione spiego che mi rilasserà e alla prossima